Non è un giudizio del tutto positivo quello di Confartigianato Ravenna sull'ordinanza balneare ufficializzata ieri dal sindaco Michele De Pascale. L'associazione degli artigiani infatti aveva inviato al primo cittadino una serie di osservazioni che solo in parte sono state accolte. Confartigianato aveva proposto che, così come previsto dalla normativa regionale, la spiaggia rimanesse chiusa dalle ore 1 alle ore 5, salvo deroghe per eventi comunicati all'amministrazione comunale. Questa prima osservazione aveva come scopo quello di evitare e prevedibili problemi di sicurezza e d'ordine pubblico. Per quanto riguarda il ballo, per Confartigianato se l'orario feriale poteva arrivare fino a luna, almeno il venerdì, il sabato e la domenica, gli stabilimenti avrebbero dovuto terminare entro mezzanotte, così come lo scorso anno. Sull'apertura invernale, Confartigianato aveva proposto al Comune di Ravenna di inserire una previsione normativa che obbligasse gli stabilimenti balneari a garantire nel periodo invernale un minimo di giornate di apertura, al fine di evitare l'uso saltuario di tale opportunità e quindi una sorta di concorrenza sleale nei confronti delle strutture già esistenti o di chi vuole garantire una continuità di esercizio. Alla luce della versione definitiva dell'ordinanza, che solo in minima parte ha accolto lo spirito delle proposte dell'associazione, ovviamente non può esserci un giudizio positivo, commenta quindi l'associazione Liviale Berlinguer, che auspica eventuali aggiustamenti in corso d'opera nel caso ve ne fosse la necessità. Infine, secondo Confartigianato Ravenna, un sano sviluppo della spiaggia non può prescindere da una politica turistica complessiva di attrattività del nostro territorio. Una spiaggia che non possa contare sulla gradevolezza di un paese alle spalle sarà un investimento sbagliato ed effimero che non porterà sviluppo economico ed occupazionale.